I carabinieri specializzati del Centro Anticrimi e Natura di Agrigento, unitamente ai militari della Compagnia della Città, supportati dai servizi veterinari dell'ASP1, nel corso della settimana hanno effettuato una serie di controlli e ispezioni alle attività che somministrano alimenti al pubblico. Nei quartieri di Villa Seta e San Leone, durante i controlli sono emesse una serie di criticità relative alle condizioni strutturali dei locali, destinate alla preparazione degli alimenti e condizioni igieniche non in linea con i parametri previsti. Le ispezioni hanno anche riguardato postazioni di street food e in uno degli esercizi è stata anche riscontrata la totale assenza di autorizzazioni, motivo per cui è scattata la giusura. Sono state attresi e accertate sanzioni per oltre 2.000 euro e ulteriori in corso di quantificazione. I militari, come di consueto, hanno neanche dato agli esercenti le giuste indicazioni circa il corretto tracciamento degli alimenti, smaltimento dei rifiuti, delle indicazioni previste dalla legge nell'esercizio delle somministrazioni di alimenti al pubblico, in particolare sull'indicazione degli allergeni e degli ingredienti. I controlli in questione non si sono mai fermati nel corso dell'anno e verranno ulteriormente implementati nel corso della stagione estiva in corso.